Hanno ad esempio con noi economicamente il 5 di dicembre, magia dei tortelli con i tortelli di agripasta al 21 grammi, questa cena benefica alle ore 20 si inizia con un tris dei vostri tortelli, la schioccherella dell'agripasta che sarà guarnita con, in sostegno c'è Agroittica Calvisano che c'è la tua studione, che ha dei prodotti di eccellenza e ci ha dato lo storione che ringraziamo e naturalmente l'azienda agricola Tartesi, maiali, ci ha dato un bel maialino, una bella porchetta, quindi ci apriamo anche quella, più il panettone del 21 grammi, quindi vi invito ad andare a trovare il 21 grammi, il 5 se siete a Brescia e volete fare un'azione concreta e passare una bella serata serena, Agripasta, in compagnia assaggiate i prodotti di agripasta e nel contempo fate anche un'azione molto molto interessante per quanto riguarda la beneficenza, non a parole ma con azioni concrete, anche perché al 21 grammi si fa inserimento lavorativo di persone svantaggiate, disabili, quindi di persone che poi negli anni...